Allora, mi si spartò, mi si spartò, mi si spartò, mi si spartò, ma sono proprio contenta di avviare, è tua quella, è tua con la macchina lì? Sì, pagala, sì. No, per Dio che l'avevi chiesto a tua. No, no, è mia. Allora, fai una bella fotografia invece. Aspetta eh.